Allora passiamo ad un altro caso concreto, un'altra esperienza che viene dalla Calabria e a presentarcela è Vincenzo Linarello che è presidente del gruppo cooperativo Goel. Grazie, grazie dell'invito. Provo un pochino a entrare direttamente nel merito della nostra esperienza collegandola un pochino col tema di questa tavola rotonda, cioè le imprese sociali e familiali che costruiscono nuove opportunità. E quello che abbiamo provato a fare in questi anni, noi nasciamo 11 anni fa, nella Locride, provincia di Reggio Calabria, un territorio molto difficile, la disoccupazione giovanile tocca punte del 75% e ahimè è uno dei posti da cui si dirama in Italia e nel mondo questo fenomeno criminale che è l'andrangheta. Abbiamo avviato questo percorso costituendo nel 2003 il Goel, poi diventato gruppo cooperativo Goel, un gruppo che nasce da un gruppo di imprese sociali, di cooperative sociali, che decidono di produrre cambiamento e riscatto in una regione difficile come la Calabria, di fronte a questi ostacoli, attraverso un metodo particolare. Da un lato la proposta di percorsi e di idee di cambiamento, di idee alternative di cambiamento, ma nello stesso tempo immediatamente la rappresentazione di queste idee dentro alcune attività di impresa sociale. Abbiamo agito sicuramente anche su un piano puramente sociale, nel senso che siamo intervenuti in tutta una serie di problemi grossi, il tema per esempio dei minori a rischio, da cui l'andrangheta pesca per allevare i propri soldati, siamo intervenuti nell'ambito anche del problema della psichiatria, che è un problema anche drammatico nel nostro territorio. Abbiamo diversi progetti di accoglienza di migranti nordafricani, che non solo mirano a sottrarre l'influenza dell'andrangheta appunto nei flussi migratori, ma tentano di dimostrare al territorio che l'immigrazione, anche l'immigrazione nordafricana può rappresentare una grande opportunità di sviluppo per il territorio stesso e piano piano stiamo tentando di dimostrarlo. Accanto a questo però abbiamo sviluppato tutta una serie di attività che cercano anche di affermare in maniera forte che l'etica può diventare un vantaggio competitivo nello sviluppo imprenditoriale di imprese, soprattutto in contesti marginali come quello della Locrida e come quello della Calabria. L'abbiamo fatto mettendo su diverse iniziative. Abbiamo i viaggi del Goel, che è un tour operator specializzato in turismo responsabile, quindi inseguiamo un modello di sviluppo turistico diverso da quello che purtroppo inseguono in Calabria, che ricalca altre filosofie. Noi proponiamo pacchetti di turismo ecologico-ambientale, turismo enogastronomico-biologico, turismo sociale e piano piano stiamo riuscendo ad attirare flussi anche che vengono fuori dall'Italia. Abbiamo sviluppato una cooperativa agricola che aggrega le aziende agricole vittime dell'andrangheta. I nostri amici di Libera lavorano sui terreni confiscati, noi invece abbiamo seguito questo percorso di aggregare le aziende vittime, le aziende colpite dall'andrangheta, perché è importante affermare culturalmente che chi fa la scelta giusta, chi dice no all'andrangheta, non è destinato ad essere un perdente, ma anzi si apre delle opportunità importanti, perché la sua scelta etica oggi incontra una fetta di mercato molto favorevolmente orientata. E quindi abbiamo messo su questa cooperativa, oggi abbiamo una trentina, circa trenta aziende agricole o vittime di indrangheta o che si contrappongono apertamente all'andrangheta, che producono agrumi, produciamo intorno a 12.000 quintali di agrumi, tra 12.000 e 15.000 litri di olio di oliva biologico, stiamo aggiungendo anche altre referenze, e abbiamo tentato di affrontare una delle cause che ha scatenato, lo citava stamattina qualcuno, la rivolta dei migranti in Rosarno. La rivolta dei migranti in Rosarno ha diverse cause, ma una di queste è il mercato degli agrumi a pezzi. Oggi, per un cartello di grossisti, per delle filiere troppo lunghe, le arance nella piana di Gioia Tauro, nella Locride, arrivano ad essere pagate a 5 centesimi al chilo. Con 5 centesimi al chilo non solo viene sfruttato l'operaio, ma non si garantisce neanche, dallo stesso sfruttamento, lo stesso proprietario, piccolo proprietario e piccolo produttore. Abbiamo costruito una filiera, saltando i passaggi inutili, valorizzando al massimo l'apporto dei soci. Insomma, lavorando bene sulla filiera, siamo riusciti, e con un marchio a forte connotazione etica come Goel Bio, siamo riusciti a garantire ai nostri produttori soci un prezzo minimo per le arance biologiche non inferiore a 40 centesimi al chilo. Quindi 8 volte più di quello che garantisce il mercato. Per contro, controlliamo tutta la filiera, e se uno dei nostri produttori lo becchiamo a utilizzare, anche solo un operaio non messo in regola, non solo c'è l'espulsione dalla filiera, dal sistema, dalla cooperativa, ma ci sono multe per santissime, per contratto, che vengono combinate, oltre alla sanzione che dà lo Stato. Abbiamo recuperato l'antica e prestigiosa tradizione della tessitura a mano calabrese, ricostruendo i telaio, andando a ripescare tutta la tradizione grecanica e bizantina della tessitura a mano in Calabria. E per dare uno sbocco a questo prodotto, che sicuramente non è competitivo, perché per fare un metro di stoffa a tessuto a mano ci si impiega da 3 a 6 ore di lavoro, abbiamo pensato che questa stoffa preziosa doveva finire in abiti preziosi. E quindi ci siamo inventati il primo marchio di moda etica di fascia alta in Italia, che è Cangiari. Siamo andati a Milano, ci siamo fatti patrocinare dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, abbiamo preso un bene confiscato all'Andrangheta a Milano e l'abbiamo trasformato in showroom e abbiamo partecipato alle settimane della moda. Adesso stiamo cominciando a esportare. Siamo presenti in diverse boutique di fascia alta in Italia e cominciamo ad esserlo anche all'estero. Questo, tra l'altro, è stato reso possibile perché è una vera e propria operazione industriale anche grazie all'apporto, al finanziamento, e al sostegno che abbiamo ricevuto da Fondazione Vodafone nella parte iniziale di questo percorso e di questo cammino. Infine, abbiamo costruito una rete in tutta Italia che si chiama Alleanza con la Calabria per aiutare le regioni che oggi sono sotto assedio da parte dell'infiltrazione dell'Andrangheta a difendersi da un fenomeno che probabilmente questi territori non conoscono e che noi invece conosciamo bene. La rete dell'Alleanza con la Calabria che lotta contro l'infiltrazione dell'Andrangheta anche al nord oggi è composta da 750 enti e organizzazioni. Tutto questo dentro un sistema che ha sempre portato avanti il pensiero e la rappresentazione pratica di questa idea di cambiamento dentro un'attività di impresa sociale. Cosa ci siamo resi conto? Vi do intanto alcuni dati, dati di fine 2012. Goel è un gruppo di una diecina di imprese sociali un valore aggregato della produzione intorno ai 5 milioni di euro 100 lavoratori dipendenti stabili più un numero variabile di lavoratori esterni. non sono grandi numeri ma Nella Locride è una delle prime imprese private non imprese sociali come numero di addetti. Questo che cosa rappresenta concretamente andando al tema di oggi? Che l'etica in un mercato in grande evoluzione ma in grande crescita di consapevolezza come quella attuale può rappresentare un vantaggio competitivo serio soprattutto per quelle aree marginali del paese che fanno fatica e anche a livello internazionale che fanno fatica a entrare nel mercato con i canoni classici che ormai sono anche abbastanza obsoleti. rispetto a questo l'idea di un capitale fiduciario fondato sulla reputazione e sulle reti relazionali l'idea di un'etica che non fa parte solo del piano marketing ma che viene costruita dentro i processi produttivi dentro il prodotto e il servizio che l'impresa offre a nostro avviso dà grandi opportunità e grandi chance. E infatti tra l'altro stiamo facendo partire un ramo di goel di consulenza alle imprese perché vorremmo dimostrare che questo non è un caso solo nostro ma è possibile fare aiutare anche le imprese profit a sviluppare l'etica come vantaggio competitivo. Qual è il lato debole oggi dentro l'altro tema grosso quello della finanza di cui si discuteva? Una realtà come goel è cresciuta così tanto che oggi ha bisogno di patrimonializzazione e ha bisogno di capitali di rischio. Oggi io non riesco a far crescere cangiare quanto potrei perché ho bisogno di un piano industriale e ho bisogno di capitali di rischio seri altrettanto seri di quello che richiede l'impresa profit che si confronta con un mercato così complicato come quello della moda. Tutto questo oggi malgrado c'è una grande simpatia nei nostri confronti nei confronti della nostra esperienza spaventa gli investitori classici gli uomini perché poi la finanza non esiste ci siamo sempre le persone ricordiamo non esiste il mercato non esiste la finanza ci sono le persone che agiscono nel mercato ci sono le persone che agiscono nella finanza oggi le persone che agiscono nel mondo della finanza non hanno gli strumenti per riuscire a valutare fiutano l'opportunità dell'impresa sociale intuiscono che è qualcosa di nuovo di importante da seguire ma non hanno la capacità gli strumenti di fare delle valutazioni che li tranquillizzano dentro questa operazione io ho incontrato tanti investitori tradizionali che mi ponevano le solite domande ma qual è il rendimento ma cosa vuoi che sia il rendimento in un'impresa sociale in cui l'utile si trasforma in bene comune è minimo quindi per forza devono essere degli investimenti come li chiamate voi pazienti di capitali pazienti e nello stesso tempo anche che richiedono una remunerazione ridotta perché ovviamente più basso è l'utile più il tempo di rientro si allunga l'altro aspetto è ma quanto conterò io nei voti di una cooperativa sociale conterai un voto non potrai contare più di un voto è una comunità che si sta chiedendo questo investimento anche questo è un motivo di paura e di incertezza però dall'altro lato sappiamo molto bene quanto oggi se andassimo a misurare anche statisticamente il tasso di rischio degli investimenti tradizionali nell'impresa profit io non so se ne usciamo meglio in termini di sicurezza e in termini di redditività allora il ragionamento è quello di creare un sistema che sia capace di leggere questo fenomeno e di aiutarlo a crescere fenomeno che non dobbiamo sopravvalutare perché ve lo dice uno che è stato anche ai vertici di un'organizzazione di cooperative sociali italiane e tutt'altro che maturo le cooperative sociali che sono la forma più compiuta oggi in Italia di impresa sociale vengono da un mondo di gestione di servizi sociosanitari e sociali che è un mondo che di solito riceve 100.000 euro dal pubblico e spende 100.000 euro dal pubblico quindi non è un mondo abituato a fare dei piani industriali non è un mondo abituato a fare dei piani di sviluppo è un mondo che lo sta imparando adesso un po' perché ha intuito che è una prospettiva importante un po' perché la crisi del welfare costringe le cooperative sociali a rinnovarsi ma è tutt'altro che maturo infine e chiudo c'è tutto il tema del patrimonio dello Stato e consentitemi venendo dalla Calabria ma non solo nella Calabria anche dei beni confiscati e delle imprese confiscate su cui bisogna veramente aprire un tema molto serio e importante oggi i beni confiscati potrebbero rappresentare veramente un grande ausilio anche sui temi della patrimonializzazione dell'impresa sociale salvo che il modello tradizionale prevede un comodato quindi il patrimonio assolutamente scompare quanto sarebbe interessante che lo Stato apportasse entrasse nel capitale di un'impresa sociale col bene confiscato invece che fare dei contratti di comodato quindi robustendo anche patrimonialmente l'impresa sociale e nello stesso tempo consentitemi di dire è stato creato un sistema così farraginoso che tentando di migliorarlo è diventato ancora più farraginoso io oggi nel mio territorio faccio fatica semplicemente a sapere quali beni confiscati ci sono è uno scandalo è impossibile oggi conoscere non sapere quali perché quello andate nel sito dell'agenzia e vi compare l'elenco ma se appena appena vi chiedete quel terreno che cos'è seminativo e coltivato a ulivetti nessuno ve lo sa dire dovete andarlo a chiedere al comune sperduto che se vuole vi risponde noi abbiamo mandato decine di lettere allora questo al di là del racconto specifico questi sono dei temi molto seri perché uno stato che ha sempre maggiore carenza di risorse e che ha un patrimonio che tra l'altro se non viene assegnato e messo in produzione si impoverisce non può consentirsi questi lussi assolutamente quindi da parte nostra da un lato insomma c'è una grande disponibilità a ragionare a partire dalla nostra esperienza ma anche a mettere a disposizione casomai sia Air Day sia altri volessero concretamente approfondire queste tematiche qui su alcune piste molto concrete e propositive grazie 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 grazie